Pane al pane su Radio Lombardia e Lombardia Channel Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti Buonasera, ben ritrovati tutti insieme fino alle 20 con Pane al pane Laura Costa Radio Lombardia e Lombardia Channel Sud Digitale Terrestre 026884230 per chi vuole intervenire, anzi vi aspetto come sempre per confrontarci con i nostri ospiti Appena arrivato, tra un po' ci raggiungerà anche Claudio Fedrazzini di Forza Italia dal Consiglio regionale e anche Dario Violi, Movimento 5 Stelle Buonasera Dario, grazie di essere con noi e come di consueto partiamo con lettera43.it in diretta per noi dalla redazione Sergio Colombo Buonasera Laura, buonasera a tutti Eccoci qua, Renzi si vince con i voti e non con l'Italicum sapevamo che oggi c'era questo confronto la direzione del PD insomma su chi in questi giorni ha un po' soprattutto dopo l'arrivo del ritorno più che l'arrivo di Casini insomma sulle alleanze, su quattro conti e il sondaggio di oggi che vede di nuovo in testa il centrodestra probabilmente qualche domanda se la sono fatta ma Renzi tira dritto dice si vince con i voti e non con l'Italicum ed è convinto insomma dei suoi numeri di questo 37 eccetera eccetera Esatto, diciamo che lui innanzitutto ha criticato quei sondaggi di cui anche noi avevamo parlato qualche giorno fa lui ha detto i risultati dell'elezione non funzionano così centrodestra non vincerà solo perché somma i voti Casini con quelli della Lega, con quelli di Forza Italia lui ha detto che neanche l'Italicum farà vincere Berlusconi non ha detto cosa farà vincere il PD e il centrosinistra diciamo lui si è limitato a dire che il suo obiettivo ora come ora non è andare al voto e continuare a sostenere il governo di Enrico Letta purché vada avanti con le riforme è la solita filastrocca Certo, anche se in questa filastrocca abbiamo Squinzi che continua invece a chiedere al sindaco di Firenze di prendere in mano insomma un po' le briglie Ecco, c'è un'altra dichiarazione visto che io in studio Sergio Dario Violi del Movimento 5 Stelle in questa direzione in questo confronto all'interno del Partito Democratico Renzi dice anche i 5 Stelle prigionieri politici uscite e aiutatici Sì, sì, esatto diciamo che è andato già abbastanza duro con il Movimento 5 Stelle gli ha fatto eco poco dopo proprio Enrico Letta che a differenza della scorsa volta era presidente della direzione del PD ha detto che quella del Movimento 5 Stelle è una reazione contro un processo un processo di riforme accelerato che Grillo Grillo e compagnia non si aspettavano quindi diciamo questa non vogliono le informe è l'interpretazione certo come interpretazione del PD noi su questo però abbiamo un'intervista a Imposimato al magistrato che diciamo la pensa in maniera opposta ovvero dice che i grillini sono costituzionali meno costituzionale al comportamento di Napolitano che secondo Imposimato ha abusato della procedura d'urgenza ultimo il caso del decreto IMU-Banchi Italia quindi dà un senso alle proteste del Movimento 5 Stelle non come sovvertitori dello Stato o comunque nel rispetto della carica ma come difensori della carta costituzionale bensì proprio il contrario come difensori esatto questa è l'opinione di Imposimato per un'intervista sul sito che è molto interessante certo hai fatto bene a segnalarla perché sono altre voci altri confronti compreso quella di Renzi per cui su Lettera43.it chi vuole approfondire questo tema può andare a leggere proprio le parole le dichiarazioni sai che poi dopo ci sono le varie interpretazioni se la prendono con noi no qui avete dei virgolettati e le avete riportati da condividere con il pubblico con chi vorrà appunto andare a fondo ecco dicevo invece poi c'è l'effetto Draghi scusami l'effetto Squinzi che vuole Renzi invece anche se Renzi sembra dire esatto diciamo che Squinzi ha criticato abbastanza pesantemente il governo Letta ha dato una scadenza quella del 19 febbraio quando ci sarà l'incontro proprio tra Squinzi è Letta e ha detto se il Premier si presenterà di nuovo a mani vuote allora forse sarà il caso di interpellare Napolitano Squinzi ha fatto capire che o entro quella data Letta si presenta con qualcosa in concreto oppure anche perché Confindustria si schiererà concretamente per un cambio al governo sia dai sindacati che da Confindustria da quando c'è il governo Letta insomma questa richiesta di essere più determinato più incisivo più 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 è arrivata tante volte insomma no? sì cioè non è la prima volta ecco quindi come hai detto tu insomma non è solo Squinzi a volere un cambio un cambio al capo del governo lo stesso Landini esatto si sta muovendo si sta muovendo in questo senso un po' per anche per convenienza perché insomma la sua è anche una strategia per isolare Susanna Camusso però poi queste sono dinamiche interne sindacati resta il fatto del sostegno sia da parte di Squinzi sia da parte di Landini a Matteo Renzi ecco un'ultima battuta poi rientro in studio come ospite e andremo a vedere insomma questi temi ovviamente oltre che tornare in regione visto l'appartenenza anche dei miei ospiti al Consiglio regionale c'è stata noi abbiamo dato in apertura con voi la notizia della Senato che decideva di non costituirsi parte civile io in chiusura quasi alle 20 ieri sera ho dato invece la notizia che Grasso ribaltava un po' questa situazione oggi ci sono state diciamo le ripercussioni abbiamo potuto vedere da vicino tutte quelle ripercussioni che hanno visto un po' il Presidente del Senato come una persona che si muove politicamente autonomamente invece che cioè la critica di Forza Italia che poi ha abbandonato l'aula era perché ci è stato chiesto di esprimerci se poi la decisione comunque era già stata presa questo era un po' esatto sì diciamo che Grasso oggi ha ribadito di aver agito da solo un po' in risposta a quelle voci che lo vorrebbero invece come aver assecondato le pressioni di Letta per insomma minare il patto Berlusconi Berlusconi Renzi e quindi prolungare la vita a questo governo chiaramente sono solo dietro le dire restano le parole di Grasso e resta il fatto che il Senato sarà parte civile contenti e hanno sottoscritto questa scelta soprattutto Movimento 5 Stelle oltre che il PD quindi torniamo a parlarne in studio con i miei ospiti ti ringrazio invito tutti gli ascoltatori per approfondire quegli temi che noi abbiamo solo accennato e che poi dipatteremo qui durante le nostre ore di pane al pane ma anche se vorrete appunto leggere questo interessante anche confronto che ci diceva un attimo fa rispetto a Imposimato Lettra43.it grazie Sergio Colombo grazie Laura buona serata buona serata a tutta la redazione e torniamo in studio Grillo non vuole le riforme questo un po' il 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 sentore che ci ci segnalava il collega e addirittura Renzi dice liberali da Beppe ovvero 5 Stelle sono prigionieri politiche uscite ed aiutateci ovviamente l'ha impegnato in regione però voglio chiedere un suo parere rispetto anche a questa intervista di Imposimato che ci riporta direttamente ai fatti di cui tanto si è parlato in questi giorni che vede al contrario i difensori non un attacco ma una difesa come abbiamo sentito prego Violi sì partiamo dal presupposto che siamo stati accusati di essere violenti perché abbiamo occupato delle sedie vuote del governo come atto dimostrativo contro il governo e la sua maggioranza che svendeva un pezzo del paese regalava dei soldi alle banche parliamo di 4 miliardi e mezzo e la storia ormai per fortuna grazie a noi la conoscono tutti mi chiedo di che riforme stanno parlando parliamo del taglio dei costi della politica del taglio dell'indenità dei parlamentari non abbiamo mai visto nulla di tutto questo parliamo magari invece della riforma svuota carceri c'è stata 4 anni fa oggi ci ritroviamo nella stessa situazione tra due mesi iniziano le sanzioni europee dobbiamo correre in ripari non mi pare una riforma vogliamo parlare della legge elettorale due persone chiuse in una stanza uno pregiudicato uno condannato dalla corte dei conti per danno erariale che decidono per tutto il paese sono al di fuori dal parlamento non sono due persone elette ecco secondo noi il luogo preposto per discutere della legge elettorale è il parlamento le persone vengono votate ed elette per discutere per cambiare il paese lì dentro lì dentro in modo trasparente devono essere discusse queste riforme quindi diciamo che quello che in questi giorni si è visto era l'unico modo dal vostro punto di vista che è stato poi la situazione criticata è stata nella maniera più che nei contenuti insomma certo vorrei sempre capire dove sta la violenza che cos'è la violenza uno schiaffo è dimenticato in due giorni dalle parole diventano violenza occupare delle sedie vuote in segno dimostrativo è violenza io penso che i cittadini ormai abbiano capito questa cosa abbiamo capito che sia una montatura e abbiamo visto tutti i giornali di qualsiasi appartenenza schierarsi e andare avanti per giorni e giorni a parlare di atti violenti di eversione eversione sedersi eversione per me è tradire cittadini è tradire il mandato elettorale non è sedersi su delle sedie vuote in segno di protesta perché altrimenti probabilmente i media non seguono nei contenuti quello che noi portiamo avanti sì anche se è stato più volte è stato ampiamente approfondito il discorso della doppia votazione Imo Banca Italia è stato perlomeno noi qui l'abbiamo fatto ma voglio dire è stato fatto anche da da altri media il punto è che sono state le immagini che hanno poi fatto il giro che sono state viste questa bagarre famosa della Camera l'attacco alla Boltrini le parole possono non essere violente però il famoso addirittura quattro senatori del Movimento 5 Stelle hanno un po' criticato la non attenzione alla pubblicazione sui blog perché cosa fareste in macchina con la Boltrini anche questo ha fatto il giro del mondo e non è sicuramente questo si intende per forma non essere seduti su delle sedie vuote certo se mi posso permettere anche su questa cosa degli errori sono stati fatti senza dubbio siamo giovani sbagliamo saremo ingenui senza dubbio però vedo anche che il nostro deputato Lombardo Massimo De Rosa ha commesso degli errori lo abbiamo assolutamente ha rinunciato all'immunità la prima persona credo della Repubblica che rinuncia all'immunità perché dice va bene giudicatemi io sono entrato da cittadino e cittadino rimango e non voglio l'immunità penso che sia un esempio sì sì lo abbiamo avuto proprio per chiarezza più volte proprio durante quei giorni in collegamento telefonico per dare voce anche alla sua posizione ha spiegato che lui stesso era stato attaccato verbalmente abbiamo potuto dar conto anche del suo punto di vista del suo vissuto ecco su questa battuta arrivo Nicola su questa battuta battuta molto diretta molto precisa di Renzi all'interno della direzione che dice 5 Stelle prigionieri politici uscite ed aiutateci questo invito ad avvicinarsi al PD o al PD di Renzi rispetto anche a quello che la centrodestra si sta organizzando è vero che voi non avete detto non ci siamo mai schierati però proprio un elettore un nostro ascoltatore elettore del Movimento 5 Stelle diceva non mi piacerebbe un'alleanza ma se è l'unico modo si parla della legge elettorale si parla del 37% si parla del ritorno di Casini per poter non rivedere ancora una volta al governo il centrodestra con i soliti noti Berlusconi magari non sarà lì fisicamente ma Berlusconi Casini Alfano ecco questo invito lei così da cittadino perché ovviamente opera in regione come sappiamo come lo sente fresco fresco di ansa io lo sento come lo vivo in regione Lombardia poi penso e spero che arrivi anche il collega di Forza Italia possa anche testimoniarlo nel senso che noi nei contenuti ci sediamo sempre con tutti abbiamo detto parole chiare ai nostri elettori che non ci saremmo agliati e quindi non farete una coalizione sulle questioni abbiamo posto noi le questioni relative a terra dei fuochi poi si è arrivato a una legge che non ci soddisfa per nulla però mettiamo sul tavolo dei temi e siamo prontissimi a discuterne quindi c'è nessun tipo di problema di pregiudizio sì no sicuramente su questo siete stati sempre chiari lo avete dimostrato in regione ne parleremo tra poco è che rispetto al 37% per evitare il ballottaccio bisogna arrivarci in coalizione prima e non dopo sui contenuti quindi su questo non se ne parla non credo proprio non crede proprio Nicola buonasera al nostro ascoltatore la voce la voce è la quella di Dario Violi Movimento 5 Stelle Regione Lombardia sì 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 lo so quindi a tutta la mia solidarietà 5 Stelle bene perché Laura è dal 48 dalla costituente che questi mangiano bevono rubano e per il popolo non hanno fatto mai niente quindi io dico a quello del Movimento 5 Stelle non entrate in contatto con questa gentaglia quindi lei è d'accordo sul fatto che loro non si è mai sui contenuti ma nessuna coalizione e poi si chiamava Porcellum stanno facendo un Porcum e beh sono due partiti di maggioranza vedremo un po' cosa succede ma Laura uno col 37% può rappresentare tutta l'Italia io penso di no e i primi di maggioranza il Senato e beh ma la maggioranza la prendono col premio di maggioranza non l'ho mica fatta io ho capito ha ragione da un certo punto di vista dall'altro ed ecco per questo a me non mi piace neanche la legge elettorale che poi veramente lei cosa avrebbe cosa cioè perché comunque bisogna stabilire una governabilità quindi maggioranza opposizione nessuno arriva al 51 ho capito ma non si governa più perché non può esserci una maggioranza netta del 51% come può avvenire con un sindaco insomma no io dico ogni testa un voto però dopo si può fare delle alleanze devono essere alleanze alla luce del sole dicendo che se uno dopo tradisce l'impegno sono d'accordo Nicola non vale perché se ti spresenti con la maglia azzurra poi non puoi diventare una maglia verde grazie grazie Nicola devo andare in pubblicità a tra poco di nuovo in diretta pane al pane guardia channel ci ha raggiunto Claudio Pedrazzini l'avevamo anticipato Forza Italia buonasera 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 a tutti gli radioascoltatori anche lui impegnato in regione prima di andare dritti dritti in regione però volevo chiedere anche a lei di questi di queste ultime battute Renzi dice non si vince con l'Itali come appena uscita l'alleanza dalla direzione del PD ma con i voti invita il Movimento 5 Stelle a uscire ed allearsi e anche perché invece il centrodestra si è un po' organizzato insomma è arrivato Casini sta prendendo forza insomma Berlusconi ha detto con lui vinciamo l'ha detto lui e quindi e poi c'è la proposta sul Senato di 150 persone che sarebbero composti da sindaci non sindaci non pagati non pagati questa fa parte della riforma e appunto abbiamo anche discusso di quello che è stato la decisione di Grasso che ha ieri sera noi siamo partiti con la notizia che non si era costituito il Senato parte civile e per il processo appunto dell'acquisizione dei voti al Senato ma alla fine Grasso è deciso e oggi c'è stata una forte protesta di Forza Italia che è uscita proprio dall'aula perché dice la cosa più palese era chiedete un parere poi fate quello che volete allora potevamo evitare il voto una battuta su questo e poi torniamo subito in Regione ma cominciando dalla legge elettorale io credo che agli italiani interessi poco quello che sta succedendo tra gli accordi gli accordini queste logiche di palazzo agli italiani interessa sapere che si possa andare a votare finalmente uscendo dall'impasse di un governo tecnico perché qui se ne sono succeduti e ahimè di provvedimenti a beneficio del nostro paese e quell'attenzione anche che è dedicata alle famiglie ai problemi che ciascuno di noi sta affrontando in questo momento difficile ne vediamo poca per cui l'occasione di andare al voto con una legge elettorale noi la interpretiamo anziché fare accordi con piccole o piccole parti o rappresentanze politiche che a vario titolo oggi sono ancora presenti nel Parlamento la rappresentiamo come l'occasione per chiarire bene quali sono i programmi quali sono i progetti che vogliamo rinnovare per l'impegno di governare il nostro paese e quindi cercare anche di dare delle risposte soprattutto a quei tanti cittadini che hanno perso la fiducia nella voglia di andare a votare innanzitutto ma che hanno comunque il dovere di farlo e quindi con una chiarezza di programmi di progetti e anche con un rinnovamento di partecipazione politica e Forza Italia lo sta facendo con il coinvolgimento di tanti giovani che abbiamo saputo mettere in campo già quindi voi siete pronti perché crediamo che non è più il momento di fermarsi a queste logiche di accogliere partiti piccoli come Casini che oggi essendo stato nel centro poi avvicinandosi al centro-sinistra ora fa marcia indietro e arriva a bussare la porta del centro-destra preferiamo avere un'identità dialogheremo anche con loro per l'amor del cielo ma con un'immagine diversa con una prospettiva decisamente diversa la questione che lei diceva del Senato di Grasso del Presidente Grasso questa cosa va incontro a tutto il sistema di nomine che sono state fatte elettive all'interno del Parlamento da quando si è votato l'anno scorso e che quindi abbiamo visto che effettivamente sono nate le presidenze della Camera del Senato con dei compromessi e con delle figure che non sono figure di garanzia e non sono figure certo di super partes ma sono figure che a vario titolo politicamente intervengono in maniera evidente rispetto a favore di una parte rispetto a un'altra perché davvero ci si chiede come mai il collegio di presidenza l'ufficio di presidenza si è riunito ha votato come da indicazione e il presidente che deve ratificare sostanzialmente quella che è la votazione dell'ufficio di presidenza poi prende una decisione completamente diversa io non entro nel merito della questione mi soffermo alla forma e spesso e volentieri la forma purtroppo dà adito a una posizione politica di partito che spesso non c'entra nulla con quanto invece la volontà dell'istituzione chiarisce ecco noi abbiamo dato conto anche attraverso delle testimonianze di una serie di avvenimenti che sono venuti in regione c'era il consiglio regionale e in realtà si è perso un po' di tempo o questo era un po' la protesta del Movimento 5 Stelle rispetto all'ingresso e l'arrivo di scuola che ha fatto tutto un ragionamento legato all'umanesimo legato all'accettazione dei più deboli insomma un intervento che ha fermato un po' i vostri lavori voi come l'avete vissuta? i lavori non si sono fermati anzi io saluto il collega Violi che è qui con me questa sera col quale ci confrontiamo spesso anche sulle tematiche devo dire che c'è un rapporto collaborativo anche perché su questo ci torniamo stia tranquillo perché l'aveva detto anche lui e ci tengo molto da approfondire va riconosciuto soprattutto quando le persone certe persone che interpretano un ruolo politico amministrativo concretizzano questo loro impegno con l'impegno giusto insomma con la dedizione e la passione quanto è successo martedì in consiglio regionale è una cosa molto semplice nel senso che il consiglio regionale ha invitato l'arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola è stato un momento importante un momento di ascolto e quindi un momento di lavoro perché noi non è che siamo pagati a rappresentare è arrivata Sonia Sonia Benesco non si spaventi Pedrazzini vada avanti noi non è che siamo pagati per rappresentare gli cittadini e gli elettori che ci hanno votato nell'istituzione semplicemente per parlare per fare noi siamo anche attenti ascoltatori e in questo caso l'arcivescovo di Milano ci ha portato un messaggio importante che abbiamo ascoltato con attenzione dove ci sono stati dei momenti anche di confronto su temi importanti come l'immigrazione abbiamo visto l'apertura che il cardinal Scola non guardi i violi che non c'era ha fatto richiamando addirittura una posizione della politica che il presidente Maroni può vivere con una prospettiva diversa sul quale è giusto che gli amministratori che hanno un ruolo si interroghino si confrontino e trovino ovviamente modo anche di ripensare certe politiche a me è dispiaciuto allora questa è la voce di Pedrazzini Forza Italia che si è dispiaciuto ma perché voi siete usciti i violi intanto diamo il benvenuto anche alla nostra Sonia Bedeschi che ci ha raggiunto con degli strani fazzoletti bianchi la sera fazzoletti bianchi ci sarà un motivo ci sarà un motivo perché ho trovato tutti i grillini con un fazzoletto bianco al polso quando sono state in consiglio regionale questa settimana stasera non ce l'hai i violi perché? sto perché non c'è scuola rimettilo Pedrazzini lo vuole anche lei per piangere per piangere nel taschino sì la nostra posizione credo sia abbastanza chiara noi non avevamo nessun pregiudizio nei confronti della chiesa nessun pregiudizio nei confronti di scuola avevamo richiesto che non fosse presente lui come altre confessioni altri rappresentanti di altre confessioni infatti Buffani parlava di laicità all'interno dell'aula del consiglio noi avevamo chiesto lo riceviamo in un'aula a lato del consiglio senza nessun tipo di problema tant'è che noi siamo usciti e abbiamo fatto questa nostra protesta pacifica e siamo andati comunque a seguire sul mercato l'ombardia channel ci ha raggiunto Claudio Pedrazzini l'avevamo anticipato Forza Italia buonasera 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 a tutti i radioascoltatori anche lui impegnato in regione prima di andare dritti dritti in regione però volevo chiedere anche a lei di questi di queste ultime battute Renzi dice non si vince con l'Itali come appena uscita l'alleanza dalla direzione del PD ma con i voti invita Movimento 5 Stelle a uscire ed allearsi e anche perché invece il centrodestra si è un po' organizzato insomma è arrivato Casini sta prendendo insomma Berlusconi ha detto con lui vinciamo l'ha detto lui e quindi e poi c'è la proposta sul Senato di 150 persone che sarebbero composti da sindaci non sindaci non pagati non pagati questa fa parte della riforma e appunto abbiamo anche discusso di quello che è stato la decisione di Grasso che ha ieri sera noi siamo partiti con la notizia che non si era costituito il Senato parte civile e per il processo appunto dell'acquisizione dei voti al Senato ma alla fine Grasso è deciso e oggi c'è stata una forte protesta di Forza Italia che è uscita proprio dall'Aula perché dice la cosa più palese era ci chiedete un parere poi fate quello che volete allora potevamo evitare il voto una battuta su questo e poi torniamo subito in regione ma cominciando dalla legge elettorale io credo che agli italiani interessi poco quello che sta succedendo tra gli accordi gli accordini queste logiche di Palazzo agli italiani interessa sapere che si possa andare a votare finalmente uscendo dall'impasse di un governo tecnico perché qui se ne sono succeduti e ahimè di provvedimenti a beneficio del nostro paese e quell'attenzione anche che è dedicata alle famiglie ai problemi che ciascuno di noi sta affrontando in questo momento difficile ne vediamo poca per cui l'occasione di andare al voto con una legge elettorale noi la interpretiamo anziché fare accordi con piccole o piccole parti o rappresentanze politiche che a vario titolo oggi sono ancora presenti nel Parlamento la rappresentiamo come l'occasione per chiarire bene quali sono i programmi quali sono i progetti che vogliamo rinnovare per l'impegno di governare il nostro paese e quindi cercare anche di dare delle risposte soprattutto a quei tanti cittadini che hanno perso la fiducia nella voglia di andare a votare innanzitutto ma che hanno comunque il dovere di farlo e quindi con una chiarezza di programmi di progetti e anche con un rinnovamento di partecipazione politica e Forza Italia lo sta facendo con il coinvolgimento di tanti giovani che abbiamo saputo mettere in campo già quindi voi siete pronti insomma perché crediamo che non è più il momento di fermarsi a queste logiche di accogliere partiti piccoli come Casini che oggi essendo stato nel centro poi avvicinandosi al centro-sinistra ora fa marcia indietro e arriva a bussare la porta del centro-destra preferiamo avere un'identità dialogheremo anche con loro per l'amor del cielo ma con un'immagine diversa con una prospettiva decisamente diversa ecco a proposito di prego no ecco poi la questione che lei diceva del senato di Grasso questa cosa va incontro a tutto il sistema di nomine che sono state fatte elettive all'interno del Parlamento da quando si è votato l'anno scorso e che quindi abbiamo visto che effettivamente sono nate le presidenze della Camera del Senato con dei compromessi e con delle figure che non sono figure di garanzia e non sono figure certo di super partes ma sono figure che a vario titolo politicamente intervengono in maniera evidente rispetto a favore di una parte rispetto a un'altra perché davvero ci si chiede come mai il collegio di presidenza l'ufficio di presidenza si è riunito ha votato come da indicazione e il presidente che deve ratificare sostanzialmente quella che è la votazione dell'ufficio di presidenza poi prende una decisione completamente diversa io non entro nel merito della questione mi soffermo alla forma e spesso e volentieri la forma purtroppo dà adito a una posizione politica di partito che spesso non c'entra nulla con quanto invece la volontà dell'istituzione chiarisce ecco noi abbiamo dato conto anche attraverso delle testimonianze di una serie di avvenimenti che sono venuti in regione c'era il consiglio regionale in realtà si è perso un po' di tempo o questo era un po' la protesta del Movimento 5 Stelle rispetto all'ingresso e l'arrivo di scuola che ha fatto tutto un ragionamento legato all'umanesimo legato all'accettazione dei più deboli insomma un intervento che ha fermato un po' i vostri lavori voi come l'avete vissuta? ma i lavori non si sono fermati anzi io saluto il collega Violi che è qui con me questa sera col quale ci confrontiamo spesso anche sulle tematiche devo dire che c'è un rapporto collaborativo anche perché su questo ci torniamo stia tranquillo perché l'aveva detto anche lui e ci tengo molto da approfondire va riconosciuto soprattutto quando le persone certe persone che interpretano un ruolo politico amministrativo concretizzano questo loro impegno con l'impegno giusto insomma ecco con la dedizione e la passione quanto è successo martedì in consiglio regionale è una cosa molto semplice nel senso che il consiglio regionale ha invitato l'arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola è stato un momento importante un momento di ascolto e quindi un momento di lavoro perché noi non è che siamo pagati a rappresentare è arrivata Sonia non si spaventano Pedrazzini vada avanti ecco non è che siamo pagati per rappresentare i cittadini e gli elettori che ci hanno che ci hanno votato nell'istituzione semplicemente per parlare per fare noi siamo anche attenti ascoltatori e in questo caso l'arcivescovo di Milano ci ha portato un messaggio importante che abbiamo ascoltato con attenzione dove ci sono stati dei momenti anche di confronto su temi importanti come l'immigrazione abbiamo visto l'apertura che il cardinal Scola non guardi violi che non c'era perché è uscito ha fatto richiamando addirittura una posizione della politica che il presidente Maroni può vivere con una protettiva diversa sul quale è giusto che gli amministratori che hanno un ruolo si interroghino si confrontino e trovino ovviamente modo anche di ripensare certe politiche a me è dispiaciuto allora questa è la voce di Pedrazzini Forza Italia che si è dispiaciuto ma perché voi siete usciti intanto diamo il benvenuto anche la nostra Sonia Bedeschi che ci ha raggiunto con degli strani fazzoletti bianchi buonasera fazzoletti bianchi ci sarà un motivo ci sarà un motivo perché ho trovato tutti i grillini con un fazzoletto bianco al polso quando sono state in consiglio regionale questa settimana stasera non ce l'hai Violi perché? perché non c'è scola rimettilo Pedrazzini lo vuole anche lei per piangere per piangere nel taschino sì la nostra posizione credo sia abbastanza chiara noi non avevamo nessun pregiudizio nei confronti della chiesa nessun pregiudizio nei confronti di scuola avevamo richiesto che non fosse presente lui come altre confessioni altri rappresentanti di altre confessioni infatti Lufani parlava di laicità all'interno dell'aula del consiglio noi avevamo chiesto lo riceviamo in un'aula a lato del consiglio senza nessun tipo di problema tant'è che noi siamo usciti e abbiamo fatto questa nostra protesta pacifica e siamo andati comunque a seguire il suo messaggio quindi tutte le persone che hanno un messaggio da portare all'interno del consiglio per noi sono benvenute però ci sono modi e tempi rischio malpensa legato dall'Italia ne abbiamo parlato nei giorni scorsi ne abbiamo parlato con Fabio Altitonante di Regione Lombardia proprio riguardo anche agli interventi che erano poi legati a Oriol Serio e a Linate il pensiero l'allarme trova anche l'impegno la voce di Maroni quindi davvero bipartisan questo tipo di preoccupazione in Regione Lombardia sentiamo la voce di Alessandro Alfieri e poi lo commentiamo con i nostri ospiti come Partito Democratico per primi abbiamo messo insieme i parlamentari lombardi consiglieri regionali estendendo poi questo accorto anche alle altre forze politiche per dire che noi non ci stiamo ad assistere in Erti a una trattativa tra Alitalia e Tiad che rischia di penalizzare gli aeroporti lombardi facessero quello che vogliono su Fiumicino se Tiad decide di investire su Fiumicino bene però non ci complichino la vita a SEA società di gestione degli aeroporti milanesi di Malpensa e di Linate se vuole attrarre sul territorio creare le condizioni per attrarre sul territorio altre compagnie aeree da questo punto di vista vediamo positivamente le intenzioni di Lufthansa di investire su Malpensa quindi no a ostacolare compagnie che vogliono venire qui e non alimentiamo da questo punto di vista lo diciamo anche a Maroni un derby fra Fiumicino e Malpensa di cui non abbiamo proprio bisogno certo questa era la voce lo ripetiamo di Alfieri voi avete immagino seguito questa vicenda in un'ottica di Expo e di arrivi anche non trovare una soglia di utilità nei due aeroporti di Oriol Serio con lo sviluppo che ha avuto e con Linate ci riporta davvero quantomeno a dei punti di domanda no? prego infatti martedì ci siamo soffermati a lungo tra l'altro in consiglio regionale perché c'era nel dibattito l'importanza di arrivare a confrontarsi proprio su questo tema che al governo ovviamente era stato avviato ma penalizza e preoccupa moltissimo soprattutto la realtà lombarda per Malpensa e allora abbiamo presentato un documento che non è nato dal centro-sinistra ma un documento che è stato condiviso da tutti i gruppi proprio perché c'è una condivisione di massima nella difesa degli scali aeroportuali lombardi prevalentemente Malpensa che è la più grande ma poi noi abbiamo presentato una mozione come Forza Italia che verrà discussa martedì complementare a quella già introdotta nella difesa di Malpensa che tiene conto appunto degli aeroporti di Linate e di Orio Alserio che sono gli aeroporti di Milano e che per le loro caratteristiche per gli accordi che hanno con determinati operatori a livello internazionale saranno fondamentali per l'Expo e su questo tema noi non capiamo come il governo abbia fatto a definire aeroporti strategici aeroporti per Expo aeroporti come quello di Pisa e di Firenze declassando ovviamente e mettendoci in forte allarme per l'aeroporto di Malpensa e anche per gli aeroporti di Linate e di Orio Alserio effetto Renzi anche lì no una battuta però è triste non capiamo le motivazioni con le quali spesso peraltro il ministro Lombardo per cui non arriva da lontano la sua conoscenza del territorio non politica del territorio assolutamente infatti su questo noi abbiamo acceso un attimo il confronto ma abbiamo già ottenuto insomma la disponibilità anche la condivisione delle altre parti politiche all'interno del consiglio regionale a valutare l'importanza di citare e di mantenere presenti gli aeroporti di Linate e gli aeroporti di Orio Alserio proprio perché hanno un'importanza strategica anche nelle loro caratteristiche diverse da quelle di Malpensa però se dobbiamo parlare di Expo non è che possiamo parlarne negli altri aeroporti d'Italia che devono essere senz'altro coinvolti ma prima potenziamo e teniamo in considerazione debitamente la realtà milanese che sarà quella più interessata questa è la voce di Claudio Pedrazzini Forza Italia Regione Lombardia Movimento 5 Stelle Dario Violi voi in questa vicenda che vi vede tutta nuova per voi nel senso che nuovo è il vostro impegno da cittadini all'interno della politica mentre invece per altre forze politiche insomma ricordiamo il problema di Linate e Malpensa ricordiamo tutta una serie di difficoltà legate anche a sé alla multe europea insomma oggi ci siete anche voi qual è il vostro pensiero? Ma il nostro pensiero mi permetta prima una battuta prego prego Oriol Serio non è Milano da Bergamasco mi permette di rispondere a Pedrazzini in tal senso però certo è però anche la visione è partenza da Milano Milano Oriol Serio cambieremo anche questo non è una scherza mi fa leghista Violi mi fa leghista nel senso che dice territorio sto scherzando sto scherzando la vostra posizione è che sicuramente sono stati fatti gli errori nel passato anche di programmazione e nella gestione aeroportuale in Lombardia e in Nord Italia io credo perché comunque va vista come una visione strategica questa io mi permetterei anche di aggiungere Montichiari perché Montichiari è un aeroporto importante che costa molto e rende poco e potrebbe rendere molto nonostante noi non siamo d'accordo con Brebemi ormai c'è e con quella con quella autostrada con quella connessione potrebbe diventare anche quello uno scalo importante dell'area lombarda e l'area milanese quindi per noi tutto quello che è riportare l'interesse sulla Lombardia perché siamo consiglieri regionali lombardi non perché siamo leghisti e questo rappresentiamo quindi per noi davvero bisogna saper programmare e gestire al meglio i flussi e chiaramente non può essere il governo di Roma che dice ha un anno e mezzo d'Expo ma non solo Expo perché la regione Lombardia dovrebbe stare in piedi anche con tutti non deve essere sicuramente il governo romano a dire questi aeroporti sono poco importanti per noi sono più importanti l'aeroporto di Pisa piuttosto che fiumicino hanno una dignità hanno una loro funzione ricordiamo che sono nei primi cinque sono tre aeroporti sono nei primi cinque a livello italiano come flusso di passeggeri questo vuol dire conta dovrebbe contare come dato credo no? Allora io torno in regione sotto un altro punto di vista che è quello di Trenord avevamo dato la notizia che c'erano questi sospetti rispetto a turni gonfiati quindi stipendi maggiorati era in studio avevamo in studio proprio quella sera consigliere regionale Altonanti parlava proprio di una serie anche di controlli che erano stati attivati cioè meccanismi di controllo e di chiarezza di trasparenza bene oggi la notizia del giorno è rispetto a questo tema ovviamente è che Trenord ha sospeso cinque dipendenti e proprio per lo scandalo dei turni gonfiati un'inchiesta interna all'azienda Lombarda dei trasporti in cui i dipendenti venivano segnati in servizio addirittura entravano in ore di straordinario ma in realtà non erano neppure al lavoro i danni ammontano a migliaia di euro a milioni di euro dice la CISL e proprio su un rapporto in cui oltre a questo danno proprio economico legato a queste furbate c'era anche un altro aspetto che era quello della sicurezza di cui parlavamo l'altro giorno e della puntualità e quindi del servizio erogato un tema sempre molto molto delicato questo in cui Regione cerca di fare regia noi abbiamo avuto due volte anche l'assessore del Tenno qui in studio da noi però insomma non è semplice queste notizie non aiutano l'altro aspetto quelle del ritardi della sofferenza dei pendolari su una serie di servizi quando poi i soldi magari milioni di euro dice la Cisla tutto da verificare però prego Pedrazzini è un tema importante perché in questa legislatura che è una legislatura che ha messo gli occhi ovviamente nel cercare di far uscire con chiarezza tutte le disfunzioni tutte le la cattiva gestione tutte quelle situazioni davvero imbarazzanti che sono nate già dalle considerazioni che abbiamo letto abbiamo vissuto dei privilegi dei consiglieri regionali dei gruppi regionali che ovviamente consentivano dei trattamenti di poter spendere dei soldi pubblici in una maniera indegna e devo dire che collegato a questo aspetto quindi di ordinare e di andare a tagliare di mettere proprio ordine a delle situazioni che non potevano più essere tollerate allora si è passato anche ad arrivare e si è arrivati a vigilare e ad andare a verificare quello che negli enti nelle società della regione e non solo le partecipate anche degli enti locali sta emergendo come incapacità amministrativa cioè come buona condotta che deve essere seguita da chi ci rappresenta e da chi guida queste amministrazioni e allora abbiamo visto il caso di infrastrutture lombarde abbiamo visto il caso di Lombardia Informatica dove anche qui viaggi all'estero premi aziendali tutta una serie di gestioni passate che con questa giunta Maroni hanno segnato una linea molto marcata e chiara dove si sta cambiando il passo sono stati cambiati gli amministratori si è arrivati adesso anche a Pedrazzini prima diceva ci siamo proposti per cambiare certo qualche colpa ce l'hanno dovrebbero anche ammetterla e qualche errore lo stanno ancora commettendo perché giusto qualche settimana fa in consiglio discutevamo di una sanzione in Expo S.p.a di una persona che poi è stata coinvolta ancora da indagini nel Monzese ed è stata una nomina che è stata fatta in questa legislatura non precedentemente quindi ci sono ancora dei casi delle persone che vengono coinvolte nella gestione della cosa pubblica che non funzionano che poi possono generare tutti questi scandali perché comunque Trenord io prendo il treno tutti i giorni anche quando ritornano stasera a Bergamo prendo il treno fa vivere un disagio quotidiano a tutti gli utenti quindi noi avevamo anche chiesto di fare non è che una cosa è legata all'altro ma lo è nei termini economici di fare anche una gara europea invece abbiamo visto che settimana scorsa il governatore Maroni ha deciso di rinnovare il contratto di servizio fino al 2020 cioè rinnovare la fiducia a chi tradisce i propri utenti perché vive in un regime di monopolio perché io sono sicuro che se intervistate tutti i pendolari il 99,9% vi dirà che non è soddisfatto non è nemmeno facile bisogna dire lo senzio dovreste io difendere assolutamente nessuno è vero che non è facile però posso farlo un esempio sono arrivati dei treni nuovi cioè ci si sta lavorando è molto dura e queste robe sicuramente non aiutano però io vorrei anche capire si parla tanto di Expo parliamo di turismo io ho vissuto in Gales ho vissuto in Argentina la situazione del trasporto pubblico se questo è il benvenuto facciamo una figuraccia esattamente Gian Piero sentiamo un attimo Gian Piero buonasera Laura buonasera agli ospiti sì penso che in questo caso e con estremo ritardo ci sia da prendere delle decisioni oltre a ogni durezza perché di fatto è successo questo che quando è stata fatta la Repubblica Italiana quando è stata costituita nel 47-48 diceva che la Repubblica Italiana è una Repubblica democratica basata sul lavoro fondata sul lavoro fondata sul lavoro sì mentre invece la realtà di oggi e anche di qualche decennio fa nei fatti dimostra che la Repubblica è fondata sui furbetti sui furbetti è certo cioè è una Repubblica fatta di truffe perché chi è più furbo oggi si gratifica cioè viene gratificata la furbizia sai quante volte mi è stato detto a me che bisogna lavorare col cervello e non con le braccia grazie Gian Piero e queste poi sono le reazioni ovvio e inevitabile torniamo in regione e parliamo di un altro tema importante degli scorsi giorni la voce questa volta è quella del consigliere Fabio Pizzul quindi Partito Democratico qui abbiamo opposizione così come il Movimento 5 Stelle abbiamo Pedrazzini di Forza Italia bene parliamo di dote scuola in un momento di scarsità di risorse sono state favorite le famiglie con i redditi più alti questa è diciamo l'accusa la dichiarazione del PD al Consiglio regionale Lombardo che critica la giunta Maroni sulla delibera dote scuola dote scuola approvata pochi giorni fa sentiamo questo audio che dura giusto un minuto per poi ovviamente sentire la voce dei miei ospiti che c'erano e smentire e smentire dice Pedrazzini prego regia meno soldi per alcuni bambini anzi alcune famiglie Lombarde perché quello che si evince da un approfondimento sui dati della dote scuola e del buono scuola è che a fronte di risorse più scarse la giunta Maroni ha deciso di aumentare in alcuni casi le risorse per le famiglie che scelgono di mandare i figli alle scuole paritarie e invece di diminuirle addirittura di azzerarli per alcune alcuni ordini di scuola per le famiglie che che mandano i figli alla scuola statale al momento visto che la delibera è stata fatta il bando è stato aperto non immaginiamo e siamo certi che non ci possano essere delle modifiche in corso chiederemo col bilancio di assestamento che venga a luglio che vengano comunque riequilibrate queste risorse che magari si possa aprire un bando ulteriore per le famiglie che sono state escluse ci rendiamo conto che è una scelta quella che abbiamo fatto abbiamo visto fare legittima però francamente molto molto discutibile ecco questa era la voce di Fabio Pizzul PD impegnato in regione Lombardia partiamo da Pedrazzini che diceva già per smentire e poi sentiamo un'altra voce dell'opposizione quella del movimento 5 stelle ma smentire perché non è proprio come il consigliere Pizzul ha indicato lo strumento della dotte scuola quest'anno è stato rinnovato mantenendo comunque un finanziamento importante con l'introduzione di un elemento nuovo che è il parametro ISE per poter accedere ovviamente a beneficiare di queste risorse parametro ISE che è stato introdotto già in molti altri ambiti dove Regione Lombardia delibera dei servizi come nella sanità nei servizi sociali e altro e quindi mancava oggi all'interno dello strumento della dotte scuola e questo faceva sì che in passato non ci fosse proprio chiarezza anche sul trasferimento delle risorse verso gli istituti e verso l'accesso alle famiglie anche coloro che hanno un reddito patrimoniale decisamente importante potevano anche beneficiarne con l'introduzione del parametro ISE ovviamente si vanno a tutelare quelle famiglie che hanno un patrimonio inferiore ai 38 mila euro che sono i primi beneficiari per poter utilizzare lo strumento della dotte scuola per cui è un provvedimento che ha trovato tra l'altro uno stop all'interno della giunta che era calendarizzata giovedì scorso da parte del nuovo centrodestra che ovviamente vedendo che c'era una novità nello strumento rispetto al passato ha chiesto di chiarire ha chiesto spiegazioni la giunta si era aggiornata il giorno dopo ed è stato accettato l'introduzione dello strumento del parametro che mancava che va a fare chiarezza che va a fare ma sul fatto del pubblico privato che è una delle loro accuse del pubblico privato ha capito il pubblico privato fa parte della consapevolezza di accettare il principio di sussidiarietà allora noi dobbiamo essere in grado di capire che la volontà che gli elettori ci hanno consegnato nel mandato elettorale va proprio in questi termini la sussidiarietà è stato uno dei principi che Regione Lombardia ha sviluppato e ha portato avanti già nell'ultimo ventennio e sulla quale ci hanno dimostrato nuovamente che è un principio sul quale si intende proseguire e allora anche qui l'offerta tra scuole pubbliche e scuole private deve essere liberamente offerta alla scelta delle famiglie che possono anche per coloro che non hanno grandi disponibilità economiche liberamente scegliere tra l'offerta pubblica e l'offerta privata questa scelta noi l'abbiamo chiarita in maniera più trasparente introducendo l'ISE che consente ovviamente anche alle famiglie che hanno delle difficoltà perché non tutte hanno delle possibilità di poter accedere anche all'offerta privata liberamente cioè non essere discriminate al contrario mettendo a disposizione le risorse che fino ad oggi Regione Lombardia ha messo in campo quindi un aiuto che si rivolge alle famiglie che possono avere delle difficoltà economiche però che non necessariamente decidano di andare alla scuola pubblica perché l'elemento che ispira la sussidiarietà è quello di far prevalere una sana competitività nell'offerta dei servizi tra il pubblico e il privato però non andando a investire sulle strutture perché questo sarà un principio che anche nel settore socio-sanitario assistenziale per capirci nelle case di riposo Regione Lombardia sta ripensando perché se in passato venivano dati dei contributi che era il cosiddetto accreditamento alle strutture socio-assistenziali cioè alle case di riposo oggi noi stiamo pensando di cambiare questo approccio e di dare il contributo che è un voucher alla disponibilità della famiglia che sceglierà poi lei se andare in quella struttura piuttosto che un'altra e qui si alza la competitività positiva e la qualità che porta a qualità e il contenimento dei costi diciamo che teoricamente funziona la grandissima no sono davvero non era una battuta anzi sono d'accordo e chi sicuramente ha toccato con mano situazioni come queste sa di cosa si sta parlando Dario Violi prego Movimento 5 Stelle si parla di competitività degli istituti scolastici è chiaro che non può esserci competitività se da anni il taglio ormai anche a livello statale è tagliare alla scuola pubblica e poi a livello territoriale si va a finanziare quella privata abbiamo visto anche quest'anno è stato tagliato il fondo nazionale Regione Lombardia ha scelto di mantenere i 26-27 milioni di euro che destinava alla scuola paritaria che non è la scuola privata è la scuola paritaria e ha fatto quasi a zerare perché siamo a 5 milioni di euro i fondi destinati alla scuola pubblica quindi è chiaro che non può esserci competitività noi partiamo comunque dal presupposto che la scuola deve essere pubblica benvenga quella paritaria e quella privata però l'articolo della Costituzione ci ricorda che senza oneri per lo Stato e questo secondo noi deve essere chiaro deve essere imprescindibile quindi cerchiamo di migliorare la qualità dell'offerta